Il grosso della perturbazione che ieri, dopo aver portato morte e distruzione in Francia, ha interessato gran parte delle regioni centrosettentrionali italiane, si allontana verso est. La parte meno intensa del fronte, invece, scivolerà nella giornata di oggi lungo le regioni tirreniche, portando quella a qualche rovescio. Sulla nostra regione il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata. Nel pomeriggio avremo maggiori addensamenti che, specie sulle regioni tirreniche e sul lago Negrese, potrebbero dar luogo a deboli e isolati fenomeni. In serata la tendenza è verso un parziale miglioramento. Le temperature saranno appena al di sopra delle medie del periodo e saranno generalmente stazionarie, con qualche possibile aumento nei valori massimi. A potenza, minime di 11 gradi e massime di 21, a matera, minime di 14 gradi e massime di 24. I venti proverranno ovunque dai quadranti occidentali, con qualche rinforzo sui rilievi del Potentino. I mari, sia lo Ionio che il Tirreno, saranno generalmente poco mossi. Tendenza per domani. Le condizioni meteorologiche rimarranno più o meno stazionarie, con una nuvolosità variabile che interesserà tutto il territorio lucano e a cui saranno associate delle deboli piogge, soprattutto nella zona nord della provincia di Matera. Le temperature sono previste in aumento di qualche grado. Grazie. Grazie.